E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Nicky1 e oggi siamo tornati su Roblox, siamo su Paintball, attenzione, siamo tornati, qui più potenti che mai, oggi ciò che mi fa accompagnare un brufolaccio qua, lo chiameremo Johnny, assisterà alla nostra destrezza delle nostre abiltà, non è vero Johnny? Sì sì è vero, pensi che mi fa giocare? Sei zitto Johnny Bene, come al solito mi scordo le cuffie, me le metto subito e scendiamo subito in campo a arare qualche persona che troviamo in mezzo, non ho detto niente in pratica Allora dov'è? Questa mappa è nuova ragazzi, bellissima nuova, allora noi siamo i rossi, intanto partiamo subito con questo, chi è qua? Ah no sono gli alleati, ok perfetto, attenzione, li vedo già laggiù, ci hanno preso da dietro, vai forza si corre, qui si esce, bene andiamo alla carica, forza, dobbiamo spaccare tutto, dove siete? Venite qua, noi siamo forti, ah ma ragazzi questo è tipo dominio? Chi sono i nemici, chi sono i nemici? Dove sono? Perché non ci sono, non ne vedo, magari se forse è un team forte, ecco, una volta che non lo vedo, mi piglia sempre il direttano, ma allora, fatta apposta Vieni qua, fatti sotto, ma l'avevo presa, no non l'ho presa io mi sa, ma la nostra arma fa qualcosa, cioè mi la ricordavo potentissima questa arma, ecco qua guarda stanno, eh doppia, vai Eh vabbè per Dindirindeina, ma qua dove cavolo stai andando? Vieni qua, fatti sotto, ti spiezzon due, dove sei? Ragazzi non c'ho più un briciolo di mira, è già finita la partita? No è finito il match, ragazzi sono già passati 8 minuti? Così, senza dire niente, vabbè, cambiamo, è lo stesso, la prossima andrà meglio, andiamo, andiamo a fare deathmatch? No ma non mi piace quella, ma perché sei così cattivo? No no no, è meglio questa, è meno grande e a posto, dai forza! Dai, partiamo, si spacca tutto, parto in attività, eh se vola piove, la gente qua è diventata fortissima, dai, vieni qua, fatti sotto, ma io ho dietro un muro, eh fa fare così ai due colpi, ma non si muove il personaggio, ogni tanto gli parte così, ma no oggi faccio ferie, vieni qua, dove siete? Porca paletta, attenzione uno è in cima, checkiniamolo subito, è sceso, ma porca, guarda te, guarda te, vieni qua, uno Eccolo qui, vai due, la testolina è andata, vai, eccoli qua, eccoli qua, vai, io salto, eh? Eccone un altro, sono qui, sono qui, sono qui, vi vedete, vi vedete? Eccolo, ciao, ciao bello, ciao, c'è una arrivata alla sinistra, lo so, ecco, lo sapevo. Vediamo un po' se c'è qualche arma nuova, bella da guardare, sono tutte le classiche armi che costano una marea di soldi, dove sono due milioni, noi siamo quasi a 900k, non so se c'è qualche mitralione automatico, fatemelo sapere nei commenti, se c'è qualche arma buona da prendere, voi che magari ci giocate più di me, siamo magari più bravi, si vola, guarda come spacchiamo tutto, vai! Alamo di Valorant, vai, via, via, vieni qua, vieni, dai, su, spawn, trappiamo tutto, ah, sono morto e respawnato, ah, ragazzi, abbiamo un radar, era questo, eh, l'ho usato, livello 49, non siamo mica dei novellini, noi, eh? E lui ci spalla da dietro l'angolo, eh, noi adesso ti veniamo a prendere, credi che stiamo lì a prendere come dei somari? Tu guarda qua, uno, due, tre, quattro, eh, attenzione, chiamiamo subito il radar, eh, non mi ricordo più i tasti, c'era X, era questa, vai, il drone, vai, 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 forza, 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 arrivo, arrivo, attenzione al mio drone, che spacca tutto, sempre se non mi spaccano prima, vai, eccolo qua, andato, 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 vai, vai, forza, vai, amici, amici, correte, ma quel suono lì è tipo, i ragazzi muoiono, Tu hai gente che muore? Ok, vai, muori, anche te, sono tutti là dentro a sinistra, non vorrei che mi spawnassero da dietro, come al solito, eccolo lì, vai, muori, sopra, non so che spawni da sopra, vieni sopra, eccolo, andato, attenzione, siamo dei cattivoni qua, lasciare proprio anche le cose qui, eccoli, ma ragazzi, sta andando, fantastica, fa una fantasia sta partita, mi dispiace fare gli spawn trap, ma ragazzi, è così, eh, l'ultima volta ci hanno chiuso così, vi ricordate? Oh, ma, attraverso un muro l'ho preso, quanti kill, vediamo un po', streak, 12 kill, uno è già 20, caspita, reina, attenzione, eh, tripla, ok, messo il drone, eh, vola, ah no, quella è l'alleata, ecco, vieni qua, uscite fuori, se avete il coraggio, non credo, ma dove sono, ragazzi, sono spariti, eccoli, 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 spara, forza, spara, no, è morto il mio amico qua, la mia amica, no, ci ha distrutto anche il drone, l'avevo proprio preso, ritorno, ritorno, amici, aspettatemi, vi devo salvare, non so se siete abbastanza potenti senza di me, dove siete? Attenzione, ho ucciso uno, ho una mira, oggi mi sento un aimbot, guarda qua, guarda, e niente, bisogna scaldarsi un po' in questo giochino, vai, bello il painful, mi piace, mi mancherebbe qualche amico, però, da giocarci, ragazzi, devo portare qualche amico qui, a giocare con noi, noi siamo sempre da soli, noi, versus tutti, Usiamo il drone, ok, usciamo piano piano, così, se no ci inseppiolano, ok, facciamo counter strafing, attenzione, vai, qui c'è altra gente laggiù, facciamo cross the map, vai, becca a tutti, mamma mia, ragazzi, che streak, non possiamo piazzare questa, oh, ok, ok, così, saltiamo via, li mettiamo, no, ci ha preso dietro l'angolino, vai, andiamo, 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 radar, e via, non ci potete raggiungere, ah, sono a sinistra, sono a sinistra, Li vediamo, li vediamo, eccolo uno in cima, è sceso, è sceso, eccolo qua, eccolo là, eh, l'abbiamo preso, uno ci spara con i soldi, ma, ragazzi, è automatica quello dei soldi, ma ditemelo voi, vai, come siamo potenti oggi, non riesco a prenderne uno, se uno lo prendo da cross the map qua, vai, testolina, eccolo un altro, attenzione, piccione, vieni qua, no, oh, 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 cosa fai, scappi, non si, oh, ma che salto abbiamo fatto, oh, ma che salto, sulle cose saltiamo tantissimo, vieni qua, ok, 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 eccolo qua, vai, Sì, è la quinta, no, me l'ha stilata, oh, attenzione, uno ha tirato la nuke, ma è fortissimo, dovrei tirare una nuke se riesco, vai, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, mamma mia, ragazzi, eccolo, ho preso, vieni qua, saltando, attenzione, ho preso tutti, oh, ma cos'è, ma che streak, no, mi sono deconcentrato, ragazzi, mi sono gasato troppo, ho fatto una, wow, ma adesso mi sa che sono dall'altra parte, no, Sono qua, ragazzi, ci abbiamo davanti, mettiamo il drone, mettiamo il radar, così vediamo, ok, preso, eh, ormai conosciamo i spawn trop, ormai ci capita sempre sta mappa, no, guarda quello con i soldi, c'è un range altissimo, andiamo, corri, 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 dobbiamo fare la nuke, ci abbiamo anche come sfida, ok, questo è morto, ok, questo è morto, questo è morto, questo è morto, preso, 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 questo qua che arriva di dietro, vai, questo è una pezza di una torretta, gli stuggiamo subito, mi prende, mi prende, Questo qua, no, lo sapevo, per Dindindana, caspiterina, oh no, oh no, aia, brutta storia, no, invece no, arrivate avanti, eh, vola questo, vola, ok, anche questo va, è andato, no, mi ha preso col drone, col drone, col drone, col drone, attenzione, aprito col drone, andiamo, corri, se no, non ce la facciamo, ce la facciamo a prenderlo, attiva un altro radar, vai che il nostro è long shot, No, non ce la facciamo, andiamo a prenderlo, andiamo a prenderlo con il long shot, eccolo qua, eccolo qui, eccolo qui, facciamo pre-fire, attenzione pre-fire, attenzione pre-fire, vai così, vai col salto, jump shot, vai, forza, e niente, è partita, non sono riuscito a pizzare la torretta, sono concentratissimo, ma allo stesso stento divertitissimo, no, quanto ci mancava? 32 kill, alla nuke, cosa volete fare? Vediamo un po', questa qua, questa qua, questa qua, questa, quella nuova? No, perché mi dice quest'arma qua? Io, cioè, noi abbiamo questa, ragazzi, questa qua è una mappa Mi si è rotto Roblox, ma c'è una mappa nuova, e niente, siamo tornati alla mappa di prima, caspeterina ci ha buttato fuori dalla mappa nuova, ma è appena iniziata, sì, ragazzi, è appena iniziata, vai, io direi di andare durissimi, vai, ci abbiamo uno in cima, no? Vai, è andato due, via Eh, si respona, vai che si respona Ok, così, vai, mi piace, andiamo Oh, 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 non muoiono, per iniziare c'è uno con lo scaracca, oh, questo qua fa sponchi nel solito punto, no, ho preso il cecchino per sbaglio Eccolo, vai, preso Oggi gli sniper non siamo Eccolo, è andato, vai Andata, vai, è andata la cosa, vai, così Eccolo, vai, così Si vola È difficile fare gli sniper su Roblox Ella, un altro, vai Eccolo un altro, mamma mia, ma che sniper che siamo oggi, ragazzi Eccolo un altro, è andato? Facciamo gli streak? Ok, non facciamoci prendere dal panico Attenzione Nooo, basta, 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 cecchino, basta Dobbiamo fargli vedere chi comanda qua Allora prendiamoci il nostro Freezy, eccola qua Poi ragazzi dobbiamo prendere un'arma migliore Perché non credo che basti questa qua Colpo singolo, se no spagli Siamo sempre dei clicker professionisti, ma E niente, qua Ci abbiamo qualcosa di più poderoso Mettiamo qualche torretta Vai, doppia Andiamo, andiamo, andiamo Corri, corri È un altro andato? Un altro? Vai, un altro ancora? Preferiamolo Vai Vai Ma è questa? Ma questa è una nuova torretta, ragazzi Questa qua è una nuova torretta Ma qui scappano Qui si nascondono Siete dei codardi Dovete farvi vedere Dai, dove stai dietro i muri lì? Vieni qui Ti congelo con la mia arma Sì, però se spuntate così al nulla Fai taglio a venire i uomini Fatevi sfido a due elos Ma sto qua come cavolo mi ha preso Corre Corre con i capelli così Feloce Andiamo Vieni qua Andiamo amici Fatemi vedere chi siamo Chi sono Tutti Eh, vabbè, ho preso secco nel muso Una pallina di vernice Ok Ah, stanno facendo il giro, eh Vi mettiamo anche la torretta Qua ce n'è uno L'ho visto Ho visto il fuoco Eccolo Uccidiamo la torretta Bene, andiamo Andiamo avanti Avanziamo Fatevi sotto Dove siete? Dove siete? Dove siete? Mmm Eccolo là Facciamo avanzare Avanzare Facciamo avanzare i nostri amici Non ci arrivo Sono un nanetto Sono basso Quindi in pratica C'ho come i bambini piccoli Al tavolo Che si devono Amico Cosa stai facendo? Ma non si fa quel lavoro lì Deve ci uccidere anche Devi sparare dall'altra parte Girati Stava sparando Alla nostra torretta Si è confuso Mi sa che lui è Tipo Un disertatore Un Un doppio giochista Ma questo qua è tipo Wall-E piccolino Non si vede Che è? Come spara sta torretta? Ma come è dura sta torretta? Ma come è dura sta torretta ragazzi? Ma è assurda Ok? È andato Ok anche quello è andato Dobbiamo riuscire a distruggire il torrettone Se non l'ha già distrutto? E niente È pieno di torrette qua ragazzi È un campo minato Un campo torrettato C'è ancora lì quella torretta? E niente È pieno È pieno di torrette Ragazzi State prendendo un po' troppo campo qui Non va bene Non va bene Ma perché non muore? Su Sbuse 44 Ma perché? Dove sei? Vieni qua Mamma mia Adesso Ci spacco tutto Uccidete 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 Perché non muoiono? Cioè in realtà muoiono Anzi Ma sono le torrette che fanno troppo lavoro E niente Mi è arrivata l'unica pallina L'ultimo colpo in canna Della torretta Adesso passiamo di qua Ok E guarda Sta facendo Eeeh Si è buona Ha fatto già 100 kill quello Mamma mia ragazzi Quante torrette pensate in giro E poi non è che io non killo E niente Fa il milino laser Quello Ok l'ho ucciso Ora c'è da uccidere le torrette Veloci amici Ok è andato Avanziamo Eeeh niente Abbiamo un paio di torrette Ok l'abbiamo messa Credo di si Ok una distrutta E vabbè ma c'è una torrettona Troppo No ragazzi Troppe troppe C'è da salire sopra Ok qua in cima Qua in cima Oh è morto È morto Vai Eccola Lì stiamo distruggendo Quella Quanta vita c'è È mortale Sì Ok no Ci siamo distrutti Il momento che ci siamo girati Non stiamo per niente Recuperando campo ragazzi Siamo sotto Messi di brutto Qui ci hanno assalito Come degli animali Qui ci hanno devastato Siamo sponchillati No come non so C'è di tutto C'è dei mini Che hanno ovunque Mamma mia ragazzi Che tristezza È stata veramente La partita molto combattuta Questa cosa sinceramente Ma beh 159 kill C'è proprio delle torrette Scioppatissime Questo qua Andiamo a vedere le torrettine Allora Eccole qua Ah vabbè 12 milioni Questo qua è un nuovo gioco Poi c'è la mini Sentry La mini torrettina Di 2 milioni e mezzo Questa invece è tipo Un airdrop E poi ci sono le nostre Vabbè vabbè Va bene Va bene Niente ragazzi Io direi di fermarci qua Che se no poi Il video dura tantissimo Se il video è piaciuto Mi raccomando Seguitemi C'ho i social in descrizione E per oggi è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi